Permesso? Permesso? Siamo girando un film? Permesso? Sì signora, sono Boldi. Tocca a me. Scusi, mi dà una Calibra? E che cos'è? È una carta prepagata. Posso prenderla anch'io? È per tutti nelle recepitorie Sisal. Il TV è sempre più magro. E non è più alto. E ma ci compri in internet? È una Visa. Non ci credo. Non ho capito l'ultima parola. Posso pure io allora? Posso andare in banca? Aspetta, metto, 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 no. Diretela. Calibra, la vera alternativa al denaro contante. Dov'è Boldi? Aspetta un momento, aspetta un momento. Aspetta un momento, aspetta un momento.